Vale, sei in registrazione? Già Sì È vero, questo? Si sto fatto Devo andare questo Devo fare questo Ragazzi Porca vacca Sono con mio padre ragazzi Ti avete presente le montagne russe tipo quelle di Gandara? Ecco, c'è un gioco che le simula Ma nell'HTC Viber Lui va matto per queste cose, ve lo giuro Adesso io ti abbandono Ti guardo nell'altro schermo E vediamo un po' come te la capi, va bene? Ok, va bene Ok ragazzi Vediamo Sta partendo ragazzi Sei pronto? Oh, ci sono gli zombie Guarda Oh, ma c'è un pullman Sto volando ragazzi Ok, mi sei nel bosco È tremendo, è tremendo veramente È tremendo È tremendo Qui ride quando è la velocità Dai attento dove vai là? Uno, uno Dove vai là? Oh 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 Sì Quando va così lento Eh, vuol dire che dopo ce l'ha discesa quella Oh 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 No, si è stoppato Questi, non sono per i zombie Oh Oh Occhio È di nuovo Di nuovo Di nuovo nelle foglie Cos'è successo di sei frantumato su un sasso C'è quello del ghiaccio Ah, hai scelto un altro Un altro livello Guarda, questo vediamo quanto assurdo è Ok Poi te ne faccio provare un altro ancora A te, ok Sì Facciamo una testa Sì, sì Ci sono le renne Ma qua secondo me andiamo a trovare il babbo Natale Per forza Mamma mia Cioè voi non avete idea Il vibe secondo me È fatto apposta per questi giochi Per i giochi tipo roller coaster È qua che dà il meglio di sé secondo me Io mi devo tenere Io mi devo tenere se lo cado Ok Qua è liscio Ok, ok No, 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 no No No, vi giuro Niente a cadere all'indietro Aaaaaah Aaaaaah Oh mamma mia Aaaaaah Mi viene da vomitare Dove sono? Sto cadendo Aiuto Dove sto cadendo? Stai volando Eh, sono super verbo Ah, cacchio Ma abbiamo tutto quel percorso da fare Guarda quanto Credo di sì Porca vacca Ti sembra bella la mappa Eh, secondo me è molto bella Eh, quella è la sua casa Guarda Abita là secondo me Non sa come fa contenere 300 folletti Aiuto No, 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 no Ragazzi L'Everest Oh no, oh no, oh no, oh no, oh no Oh no, oh no, oh no Oh no Aaaaaah Salvami padre Sì Salvami papà Vai, vai Salvami papà Vabbè È velocissimo Wow Hai visto? Sono dentro il gaccio È assurdo Alla mania sto gioco di farti prendere roba in faccia No, non di nuovo No, dieci mesi vengo a trovarmi Dove siete? Aaaaaah Mamma mia, è stato un bel viaggio Nonostante sia estate ho freddo Quello di Halloween Te lo fai tu, ok? Va bene Questo dovrebbe essere spaventoso Ok Sono più coraggioso di te Allora Sei più coraggioso? Sei pronto? Sono pronto Occhio Vai, vai, vai Sono matto È di notte qua? Questo è bello Mamma mia Mamma mia Questo sì, è molto Questo? Pavoroso È di notte Aiaiaiaia Bellissimo questo Bellissimo la luce È perfetta, vero? Guarda, un cimitero Oh, Gabriel Oh, non posso salvarti, padre Sono anch'io legato insieme a te in questo viaggio Aiaiaiaiai Spunchi, scala, scala Tutto è intorno al cimitero qua Aiuto Occhio a non morirmi, eh Tienti santo il cuore Guarda che hanno detto che questo fa paura, eh Questo sì Questo fa paura Osceno Osceno È molto osceno Ah, come ride Tocca Guarda come ride la zucca Guarda, guarda che ti guarda Lo sa, ti sta augurando Oh, oh Oh, mamma mia Oh, mamma mia Oh, mamma mia E non ho mangiato Stai divertendo? Vomiterai l'anima qua Oh, aiuto Ma è appena iniziato E' lo scheletro che si è dimenticato Ciao, amico Ecco, lei ha mangiato poco Ah, no S'hai andato all'inverno Oh, lei, no Dove sei? Andiamo adesso Dove stiamo andando? Eeeh, non lo so Ai, 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 ai Non so Ecciti Oh, mamma mia Potresti fare il doppiatore dei fantasmi Questo è stato un shock Questo è stato un shock Aiuto Aiuto ragazzi No, no, ma sembra orribile E' pauroso Io questo non lo faccio Neanche se mi spagate Oh Dove sei? Pipistrelli Pipistrelli Diventerai Dracula dopo questa esperienza Oh, mamma mia Diana Papi Dove stai andando? Diana Papi Ora che rollo Sei andato attraverso il portale Attento Oh, che veloce Adesso attraverso il portale Aiuto Attento Ah, non è mortale Ai, 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 ai È Minecraft Vai sempre più in basso No Attento Sei andato al cimitero È morto Aiuto Mamma mia Cosa succede? Tutto bene? Mi confermi che sei vivo? È incredibile Aiuto 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 Oh, passa la testa Mi becchi in testa quindi Oh, 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 oh Ma dov'è? Dove sei andato? Occhio al cavallo contentesco Ai, 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 ai Ai, ai, ai Aiuto Sei morto Bellissimo Bellissimo Mi è piaciuto? Sì Va bene Puoi toglierti il casco Molto bello La prima volta che l'hai provato questo casco Che esperienza ti ha dato a te? Eh, sei immerso Completamente immerso nel gioco Cioè, quando vedi un gioco sullo schermo Allora vedi tutto in 2D Però quando metti il casco Sei letteralmente dentro nel gioco Che non so Se ve lo dice mio padre dovete credergli Sì, è vero Va bene ragazzi Speriamo che il video vi sia piaciuto Un like per il papi E noi ci vediamo ad un prossimo video Ciao ragazzi 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 Grazie per la visione!